Senatore Desiano, all'acqua meno la problematica, una delle problematiche più sentite è sicuramente quella della scuola che è ritornata a far parlare di sé qualche settimana fa, ancora disagi tra le famiglie, anche una vera e propria guerra se vogliamo definirla così, tra gli stessi genitori, il corpo insegnanti, si litiga sostanzialmente perché mancano ancora le aule. Dal punto di vista della minoranza come state affrontando questa situazione? Noi la risposta l'abbiamo già, quella che poteva essere la soluzione, abbiamo dichiarato quale potesse essere già lo scorso anno, non adesso, ma lo abbiamo detto in campagna elettorale quando si sono svolte le elezioni, l'abbiamo detto subito dopo, noi ritenevamo che la soluzione ci fosse, una soluzione concreta, una soluzione che non creava nessun disagio a quelli che erano le famiglie, a quelle che erano le mamme, a quelli che erano i ragazzi, una comunità senza la scuola. E' una comunità, diciamo, tra virgolette fallita. Questo è il dato vero, il dato oggettivo. Vede, io credo fortemente in quelli che sono i valori della democrazia. Io credo che in democrazia si esercita, la democrazia vada esercitata concretamente e sempre. C'è chi vince e c'è chi perde. Però credo che su un ragionamento del genere noi abbiamo perso le elezioni che si sono svolte lo scorso settembre, c'è stata un'altra parte che ha vinto, ha vinto di poco, ha vinto di molto, ha stravinto, ha vinto ma non ha vinto. Lasciamo perdere tutto. Oggi c'è la responsabilità di coloro i quali amministrano. Noi abbiamo detto sin da subito c'è la massima disponibilità concreta a voler dare il nostro contributo per fare in maniera tale che possiamo risolvere un problema che non è un problema di Domenico di Siano, non è un problema della minoranza, non è un problema della maggioranza, ma è un problema del Paese. Hanno da sempre fatto l'orecchio di americante. Loro, la maggioranza, purtroppo crede che l'amministrazione, che il Comune, che la Casa Comunale, che il Paese sia un qualche cosa che appartiene a loro in assoluta proprietà. Benissimo, insomma. Ne prendiamo atto, le cose vanno così. Dobbiamo andare avanti e aspettare. A proposito sempre di politica locale, l'altra tematica è quella del porto. Si diceva che la prima cosa è che il porto dovrà ritornare in mano pubblica, ma di fatto c'è un percorso giudiziario che sta andando avanti. Questo di fatto ancora non è stato realizzato. Ho l'impressione che all'Acquameno ci siano una serie di problematiche, si è parlato anche di divisioni interne. Voi siete lì, siete alla porta in questo contesto. Come vi state comportando? Noi non mettiamo becco rispetto a quelle che sono a casa degli altri. Noi ci limitiamo a osservare, a svolgere il nostro ruolo in maniera concreta, in maniera attiva. E ci limitiamo a fare un'osservazione e a sottoporla a quelli che sono i nostri concittadini. Il paese nell'ultimo anno, nell'ultimo anno e mezzo, negli ultimi due anni, ha subito un decremento estremamente visibile agli occhi di tutti. È un fallimento la scuola, è stato un fallimento lo sport, è stato un fallimento il porto, la portualità. È un fallimento quello che è il commercio, il tessuto commerciale nell'ambito del nostro comune. Questi sono dati veri, al netto di quelli che possono essere l'ordine, che possono essere la pulizia e quant'altro. Non ne parliamo, è sotto gli occhi di tutti, non lo devo dire io, non lo devo denunciare io in televisione. Perché qualsiasi cittadino all'Acquameno ha la possibilità di verificare dove vive, come vive e la sua qualità della vita nell'ambito di quella comunità qual è. E se ne fa una considerazione personale. Il tema è solo questo qua. Quindi quali sono stati i risultati dal giorno dell'insediamento di questa amministrazione ad oggi? Noi riteniamo che siano dei risultati fortemente negativi, fortemente fallimentari. Poi ci sono divisioni nell'ambito della maggioranza, non ci sono, non è un problema che ci appartiene. Noi facciamo in maniera corretta, in maniera responsabile quello che è il nostro ruolo, anche perché riteniamo che tra pandemia, tra guerre che adesso sono scoppiate e quant'altro, sono tantissimi i problemi che si ritrovano a vivere le persone e le famiglie che non dobbiamo tediarli noi con delle considerazioni sterile che poco hanno importanza. Noi dobbiamo svolgere il nostro ruolo con estrema serietà, con estrema responsabilità, tenendo presente che possiamo arrivare fino a un certo punto, perché noi siamo la minoranza nell'ambito di una comunità. perché la maggioranza è stata scelta in maniera democratica ed è stata ritenuta che dovesse essere rappresentata da altri. Altri la stanno rappresentando, noi riteniamo in maniera completamente fallimentare.